Salve amici del Centro Metro Italiano. Cuore dell'alta pressione che rimarrà lontano dal continente europeo e dal Mediterraneo almeno fino a termine di maggio. Vediamo la tendenza. Prossimi giorni che vedranno una piccola goccia d'aria fredda in quota muoversi sull'Europa centrale ed interessare parzialmente anche la nostra penisola. Forte aumento dell'instabilità sulle regioni settentrionali con acquazioni temporali anche intensi, fenomeni a carattere ipomeridiano anche sulle zone interne del centro-sud. Poche variazioni con l'arrivo dell'ultimo weekend di maggio, quando la situazione sinottica vedrà ancora un robusto anticiclone tra Oceano Atlantico e Isole Britanniche. Principali modelli che anche tra fine maggio e inizio giugno confermano un anticiclone di blocco sull'Atlantico e nuove fasi instabili per il Mediterraneo. Trattandosi però di tendenze seguite come sempre tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.